Ora è praticamente ufficiale, la prossima settimana aprirà a Pescara il nuovo centro vaccinale presso i locali della stazione ferroviaria di Pescara Portanuovo. Sì, abbiamo mantenuto riservata l'attività che era ovviamente sotto traccia dalla parte del Comune, proprio questa mattina abbiamo convocato nella sala giunta sia l'ASD che gli operatori di protezione civile per risolvere alcune problematiche di carattere logistico anche sulla presenza dei volontari con il fatto che è chiuso il cocco oggi, quindi formalmente dobbiamo anche risolvere delle problematiche operative. Per questo ci stiamo lavorando, nel corso della prossima settimana saranno definite e quindi avremo finalmente su Pescara un hub vaccinale operativo, non certo con la potenza che abbiamo sviluppato sul Palafiere dove effettivamente è stata un'eccellenza nazionale riconosciuta anche dal generale Figliolo. Su Pescara saranno attive 4 postazioni che avranno la capacità giorno di giorno, quindi sia la mattina che nel pomeriggio, di circa 500 dosi che saranno somministrate su prenotazione e con la collaborazione di carattere logistico della protezione civile. Con l'apertura del nuovo hub a Pescara avete in un certo senso risposto alle esigenze di una parte della cittadinanza che aveva incontrato delle difficoltà nel recarsi a Marina di Città Sant'Angelo, era stato lo stesso sindaco a richiedere alla ASL l'individuazione di un sito dove poter aprire un hub in città? Sì, è un'esigenza del territorio, non ci siamo mai tirati dietro su questa esigenza, tant'è che con il Palafiere abbiamo dato ovviamente contezza di questo nostro impegno. Vista le difficoltà ovviamente dei cittadini pescaresi di recarsi fuori territorio abbiamo inteso e richiesto alla ASL di voler aprire nuovamente su Pescara per abbassare quella pressione che c'è sulla cittadinanza per ricevere questa terza dose e ovviamente con la somministrazione da parte dei medici, delle farmacie e quant'altro non c'è la pressione per ora per lo meno per quanto riguarda la numerosità delle persone, ovviamente contagi permettendo, a meno che non dovessero, speriamo di no, aumentare i contagi anche nella nostra città ma a quel punto anche nel nostro Paese.